Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi, come ogni martedì, nuovo video a tema Harry Potter e apriremo assieme questo mega pacco pieno di cose potteriane che mi sono state inviate dai ragazzi di Mini Big World Collectibles. Per chi non lo sapesse, Mini Big World Collectibles è un sito e-commerce che vende, ragazzi, di tutto. Da Harry Potter al Signore degli Anelli a qualsiasi altro fandom e trovate naturalmente Funko Pop, Action Figure e tantissime altre cose. Vi lascio naturalmente il link sotto in info box e trovate anche un codice sconto serie 5 che vi darà 5 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro. Ma ragazzi, vi consiglio di seguirli anche sui loro social come Instagram e Facebook perché pubblicano continuamente novità e promozioni. E ragazzi, a proposito di novità, io ho preordinato proprio da loro il castello Lego da 6.000 pezzi. Sì, ragazzi, il castello di Hogwarts, il mega set di Harry Potter che mi arriverà presumibilmente i primi di febbraio e che trovate in preordine su Mini Big World Collectibles con una formula molto molto interessante che mi ha convinto ad acquistarlo. Perché pagherete soltanto 99 euro subito e poi pagherete nel totale 4 rate, sempre da 99 euro per una cifra complessiva di 399,90 o una cosa del genere. Il prezzo classico del castello di Hogwarts della Lego ma che in questo caso verrà dilazionato in 4 mesi. E devo dire che è una gran bella mano visto che non è necessario avere busta paga o altro. è semplicemente il meccanismo del sito che ogni mese preleverà dalla vostra carta 99 euro. Io ho già mandato i miei primi 99 euro e ragazzi, a febbraio lo unboxeremo qui assieme e diventerò assolutamente matto. Naturalmente anche del castello LinkedIn Infobox. Ma adesso bando alle ciance ragazzi e apriamo questo pacco perché non vedo l'ora di mostrarvi cosa ho preso dal loro sito. delle cose davvero fighissime. È quasi tutto a tema Harry Potter tranne una cosa che volevo da parecchio tempo. Quindi cominciamo. Wow ragazzi, è sempre una goduria quando apro un pacco di mini Big World Collectibles perché guardate, tutto imballato alla perfezione tutto super protetto. Io non ho mai avuto un solo problema ma anche molti di voi me lo hanno già confermato perché mi mandate continuamente foto dei vostri acquisti e sono felicissimo quando un mio consiglio vi dà una mano a trovare dei venditori onesti dei prezzi buoni e soprattutto un imballaggio ragazzi da Dio. Quindi cominciamo a tirar fuori la roba io direi di cominciare dall'unica cosa che non è a tema Harry Potter così ve la faccio vedere subito ma che è invece a tema Futurama. Ragazzi, io ho visto questo modellino diverse volte sul loro sito ne trovate tanti e non vedevo l'ora di averlo eccolo qui si tratta del Planet Express della navetta spaziale del Planet Express che adesso sicuramente starete vedendo sovraimpressione ma ragazzi, ditemi voi se non è bellissima questa navetta si attacca al suo piedistallo magneticamente quindi figata e devo dire che è davvero fedelissima fatta molto molto bene e mi piace anche un sacco la sua confezione con questo stile molto fumettistico davvero molto bella ed è prodotta dalla stessa azienda che produce le QFIG naturalmente ragazzi tutti questi prodotti li trovate ancora disponibili sul loro sito e detto questo adesso direi di passare invece alle cose potteriane ecco qui il primo pezzo si tratta di un Funko Pop ragazzi questo Funko Pop io volevo prenderlo da un bel po' anche perché come saprete ho già la versione esclusiva Hot Topic e quindi questa qui mi mancava ed eccola qui naturalmente Super Mint ragazzi il Chupacabra però con le fauci chiuse a tutti i collezionisti di Funko Pop ragazzi tenete sempre d'occhio il sito Mini Big World Collectables perché vedo spesso e volentieri gente andare di matto per il 3x2 da GameStop quando pagate alla fine 3 Pop più di 30 euro quindi non è che poi sia questo grande vantaggio e magari invece vedo passare in sordina delle promozioni fantastiche come quelle che fanno i ragazzi di Mini Big World Collectables che davvero fanno spesso e volentieri non solo il 3x2 ma anche tantissime altre promozioni come le spese di spedizioni gratuite quindi ragazzi davvero teneteli d'occhio io cerco sempre di consigliarvi i migliori store dove acquistare e con rapporto qualità prezzo migliore se non credessi davvero in Mini Big World Collectables non ve lo proporrei davvero ragazzi potete fidarvi ma andiamo ancora avanti perché adesso vi mostro una novità assoluta che trovate sempre sullo store e ragazzi io avrei voluto prenderli davvero tutti ma mi sono limitato ad uno e si tratta dei nuovi puzzle di The Noble Collection avete capito bene ragazzi The Noble Collection ha rilasciato una serie di puzzle di altissima qualità tutti da mille pezzi e in questo caso io ho scelto quello della mappa del malandrino ma la bellezza è anche il formato perché si tratta di un formato rettangolare è la mappa del malandrino in tutta la sua interezza quindi davvero molto molto bello e voglio assolutamente togliere il cellophane per farvi vedere come è realizzata la confezione che è come al solito molto molto curata trattandosi di Noble Collection ecco qui e adesso tiriamo fuori il puzzle dalla sua scatola già si può intravedere qui questa linguetta in tessuto molto molto carina e basta tirarla per estrarre completamente la nostra scatola eccola qui ragazzi guardate quanto è bella e all'interno troviamo la busta con i nostri mille pezzi e anche un'immagine in miniatura della nostra mappa del malandrino che poi andremo a realizzare io questo voglio finirlo sono un fan dei puzzle ne ho fatti tantissimi ne ho tanti appesi in casa e questo qui assolutamente prenderà posto nella mia camera quindi mi raccomando seguitemi su Instagram per non perdervi l'avanzamento dei lavori riguardanti il puzzle ma non è l'unico ne trovate anche altri trovate ad esempio quello del cavillo che era uno di quelli che mi tentava di più perché mi piaceva tantissimo la copertina con gli spettrocoli davvero molto molto carina ma questo mi ha attirato ancora di più per la sua forma particolare molto allungata ma troviamo anche quello col castello di Hogwarts ce ne sono davvero tantissimi e Noble Collection brava perché sta variando moltissimo i prodotti di Harry Potter e ha smesso di fare semplicemente repliche di pacchette di oggetti di scena abbiamo ancora un ultimo prodotto che non portavo sul canale da un po' e si tratta di una teca una delle teche che racchiudono gli animali del mondo di J.K. Rowling e ragazzi finalmente ho preso picket ed eccolo qui tiriamolo fuori dalla sua scatola protettiva beh ragazzi è davvero bellissimo sì bello quello di running press da 6 euro ma ragazzi questo qui è davvero tantissima roba mi piace un sacco il diorama che hanno ricreato alle sue spalle alla base con queste foglie cadute queste foglie un po' rinsecchite e poi il nostro picket imbronciato che possiamo assolutamente definire in scala 1 a 1 mi piace un sacco credo sia tra le bestie più belle che abbiano realizzato in questo formato sono già arrivate in preordine se non sbaglio quelle nuove della terza serie dove troviamo ad esempio Aragog che mi piace un sacco ma troviamo anche Fuffi ci sono tantissime novità nell'ambito delle teche di The Noble Collection e ragazzi sono davvero felicissimo di aver recuperato anche Picket che è comunque il primo che vado a recuperare dalla saga di Animali Fantastici dove trovarli mi piacerebbe anche recuperare quello dello Fuper che è molto molto bello e consiglio tantissimo quello dello Snaso che è praticamente uguale alla statuina che si trovava in allegato col Blu-ray in edizione speciale super costoso del primo film di Animali Fantastici quindi con circa 30 euro o poco meno riuscite a prendervi quel fantastico pezzo che è davvero molto molto bello beh ragazzi io ringrazio davvero tantissimo Mini Big Wall Collect Boss per tutte queste meraviglie potteriane fatemi sapere voi nei commenti se avete già acquistato così potete condividere la vostra esperienza con gli altri ragazzi qui della nostra community potteriana e fatemi sapere cosa vi piace di più tra le cose che ho preso io e noi naturalmente ci vedremo prestissimo con tanti altri video potteriani e unboxing di Mini Big Wall Collectibles e a questo punto bando alle ciance io vi saluto vi ricordo di andare subito in infobox per il codice sconto e tutti gli altri link relativi a Mini Big Wall Collectibles e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao ciao Grazie a tutti.